Ciao, sono Cristiano, ti do il benvenuto presentandoti il canale che stai guardando. Lo so, siete stanchi di vedere video noiosi di matrimonio tutti uguali e soprattutto che non vi rappresentano. I primi ad annoiarci eravamo proprio noi. Per questo, nel 2009, ho deciso di creare la Oreti Video Studio, azienda specializzata nella produzione di film di matrimonio divertenti ed emozionanti. Con il nostro metodo abbiamo rivoluzionato la concezione del video del matrimonio, dando voce e anima ai vostri ospiti che sono coprotagonisti del vostro film, rilasciando battute e interviste che saranno inserite all'interno del video. E il racconto diventerà magicamente festa. Scommetto che vi sarete chiesti, com'è possibile che appaiono tutti così disinvolti? La nostra formula magica è simpatia, professionalità, esperienza, ma soprattutto un pizzico di follia. Durante le riprese sapremo mettervi a vostro agio, a tal punto che sembrerà una chiacchierata tra amici. Infine, insieme progetteremo il video. Ci racconterete di voi e delle canzoni che fanno da colonna sonora la vostra storia. Perché solo così vi riconoscerete, emozionandovi ogni qual volta vedrete il video del vostro matrimonio. Grazie a voi i nostri video hanno ricevuto milioni di visualizzazioni ed è per questo che filmiamo matrimoni in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia. Cosa puoi ottenere scegliendoli di video studio? Il film che hai sempre cercato e che forse credevi non esistesse. Ciao e grazie del tempo che mi hai dedicato.